Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La giornalista Bianca Berlinguer ha spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata intervista con Maria Rosaria Boccia il martedì sera. Ha chiarito che il disaccordo è nato dalla sua decisione di non fornire in anticipo e per iscritto le domande che aveva in programma di fare, come evidenziato sui social media del suo programma Carta Bianca. Riguardo alle accuse di Boccia di essere stata trattenuta nel camerino contro la sua volontà, Berlinguer ha risposto sorridendo, sottolineando che in 35 anni di carriera non ha mai avuto un episodio simile e che ha deciso di non rispondere più alle accuse di Boccia. Berlinguer ha ricordato che era prevista un'intervista individuale con Boccia, seguita da una discussione con altri giornalisti, i cui nomi erano stati comunicati in anticipo a Boccia. Inoltre Boccia aveva insistito nel ricevere le domande dell'intervista per iscritto in anticipo, cosa che era stata rifiutata per tutti gli ospiti del programma. Berlinguer aveva inviato a Boccia un riassunto dei temi generali che sarebbero stati discussi, specificando che sarebbero stati gli altri giornalisti a formulare le domande nel talk successivo. Durante l'incontro, Berlinguer ha assicurato di non ostacolare nessuna informazione che Boccia avesse desiderato condividere. Tuttavia, il dissidio è nato dalla riluttanza di Berlinguer a fornire le domande in anticipo e per iscritto. Berlinguer ha sottolineato che non risponderà più alle accuse di Boccia e ha evidenziato che l'intervista era stata organizzata per discutere i dettagli precisi del caso, evitando pettegolette.